E' nato a Siena il Centro Regionale di Medicina di Precisione, finanziato dalla regione toscana con 6 milioni e mezzo di euro, frutto della collaborazione tra Università, Fondazione Toscana Life Sciences e azienda ospedaliere universitaria senese. L'accordo senese prevede la stretta interazione tra ricerca e assistenza attraverso il paradigma innovativo della medicina di precisione, che tiene conto di patrimonio genetico, ambiente e stile di vita del paziente per la prevenzione e la diagnosi delle patologie. La medicina di precisione è la frontiera della nostra medicina, è ciò che consentirà ad un sistema che è sempre più definanziato di continuare a riuscire a garantire sostenibilità e qualità. E' la frontiera del futuro dei sistemi sanitari e questo è il territorio migliore per riuscire a realizzare questo tipo di progettualità. Gli ambiti in cui il centro troverà in Toscana immediata applicazione sono quello oncologico, diabetologico e dei nuovi farmaci e vaccini per le malattie infettive nell'ottica della personalizzazione delle cure che ha un preciso scopo. Capire perché in alcuni malati le cure che in altri funzioni non funzionano significa introdurre un'analisi, studio, ricerca sui meccanismi che questo determinano anche perché questo ci consentirà di curare anche quel 30% che oggi non riusciamo a curare. L'istituzione del Centro Regionale di Medicina di Precisione a Siena è poi un importante motore di attrazione di investimenti sul territorio per nuovi progetti di ricerca e sviluppo. La medicina di precisione è una disciplina moderna che guarda molto al futuro, che farà uso delle nuove tecnologie, delle nuove tecnologie genetiche, delle nuove tecnologie informatiche, di analisi dei dati e che ambisce ad essere una piattaforma strumentale ma anche una piattaforma intellettuale, cioè una piattaforma di risorse umane che possono lavorare nella stessa direzione per garantire alla fine, perché poi alla fine questo si vuole garantire, migliori trattamenti sanitari ai nostri pazienti. Il Centro Regionale si occuperà della creazione di piattaforme tecnologiche integrate, di supportare nuovi progetti di ricerca e di creare un sistema integrato di bioinformatica e big data management e il territorio di Siena gioca un ruolo strategico a livello regionale. Pensate che da Rosia esce l'85% dei vaccini per la meningite del mondo. Se Rosia si chiude, domani mattina la meningite ritorna un problema aperto in tutto il mondo, per dare l'importanza di questo distretto che può giocare un ruolo. La Regione Toscana oggi ci ha dato la possibilità di dire, state insieme, vi diamo anche un incentivo economico e questo è un aspetto molto importante. Grazie a tutti.